Ci siamo! Bentornati a tutti quanti a questo nuovo appuntamento qua sul canale Twitch di EveryEye.it Prontissimi per cominciare una nuova mattinata questo mercoledì, la mia prima colazione di questa settimana Il mio primo Every Morning, bisogna dire Every Morning, ancora non c'è il rebranding ma si chiama Every Morning Buongiorno, buongiorno a tutti, siete già tanti, Exploding It and Brain It, Alberto, Darkarro, Uscaio, Gian Dugiotto Ifxan, Ifxan, Ifx... ma perché mi fate questi nick complicati la mattina? Ifxan, Ifx... vabbè insomma dai c'è un nesso consonantico qui che non è che sia proprio diciamo immediatissimo però va bene, Nimpix, Frank, Arianna, Briccolo, Mogetius, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti Benvenuti, buongiorno, ah guardate la freschezza stamattina, è tornato il freddo, ci tenevo a dirlo perché è giusto fare anche i commenti sul tempo atmosferico dopo che la primavera ci aveva fatto assaporare diciamo il suo tepore è tornato il ghiaccio mortale buongiorno Roberto, ciao, benvenuto, ciao Marzia, Gabricom Roberto mi chiede se ho fatto colazione, ovviamente interessandosi anche al mio sostentamento sì, l'ho fatta, l'ho fatta Roberto e ho già bevuto... no, oggi solo un caffè in verità infatti forse un po' potevo fare il secondo caffè mattutino, quello per incominciare bene sì, potevo fare Fro Jazz, 1984, si abbona per tre mesi e ci manda un cuoricino e noi ringraziamo assolutamente camicia a maniche lunghe, meno male sì, anche ieri c'era la camicia a maniche lunghe è tornato il freddo, è tornata la manica lunga che cosa devo fare? siete in tanti, ci state raggiungendo buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno allora, 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 allora settimana corta, questa settimana perché c'è stata la pasquetta di mezzo grazie a Pippo Bowser che si abbona per cinque mesi buongiorno Franco, ti preferisco con la manica lunga no, aspetta, però, cioè, sfatiamo questo mito anche io mi preferisco con la manica lunga però di tanto in tanto la manica corta è proprio, cioè è importante è necessaria per evitare di morire accalorati ecco, quindi intanto Xur si abbona per dodici mesi un anno di piccolissimo e silenzioso supporto spero comunque gradito molto gradito Xur complimenti per il vostro lavoro e grazie di tenerci compagnia in questi tempi non felicissimi fra l'altro Xur lancia così anche il treno dell'hype che mi accoglie questa mattina manca questo fra l'altro eccolo sì, assolutamente, come dicevo Xur, gradito e mi fa piacere che purtroppo, sai, questi tempi diciamo di quarantena, fasi alterne continuano e noi continuiamo, insomma, con la nostra programmazione che ormai è presa una bella sostanza e siamo felici di farvi compagnia grazie a SMAG, vento del nord che si abbona per dieci mesi e rilancia così il treno del live grazie a Salem che si iscrive dicevo, relativamente alla nostra programmazione se tutto va bene se tutto va bene dovrei aver identificato gli ospiti dell'EveryTalk di questo venerdì sapete che, insomma, il venerdì abbiamo rimosso il Q&A Gaming che rimane solo il mercoledì no, il martedì il mercoledì e oggi c'è il Q&A Tech però vabbè Francesco e mi devo svegliare un pochino anch'io fra l'altro c'ho sto ciuffetto vabbè il venerdì abbiamo rimosso il Q&A Gaming perché, insomma, le occasioni di Q&A sono tante e abbiamo deciso di fare un talk show con degli ospiti nella prima puntata abbiamo avuto Riot Games e 3D Clouds Tommaso Valentini per 3D Clouds e Carlo Barone per Riot Games è stata una puntata spero interessante fra l'altro nelle repliche l'abbiamo spezzata in due quindi, perché gli argomenti erano molto molto diversi e molto lontani anche l'uno dall'altro e ci piaceva dargli un'autonomia perché crediamo che, insomma, le chiacchierate siano state particolarmente illuminanti sia per chi vuole dare, diciamo, un'occhiata più approfondita allo sviluppo indipendente italiano e anche al rapporto con un publisher internazionale cioè il rapporto fra un piccolo team e un publisher internazionale e dall'altra parte, invece, interessante per chi vuole dare un'occhiata a quelle che sono le strategie di un colosso internazionale ecco, come Riot secondo me sono state due chiacchierate piacevoli vi anticipo già che sarà difficile avere tutte le settimane due ospiti quindi magari qualche volta faremo una chiacchierata un po' più contenuta diciamo un'oretta e mezzo con un ospite anche perché, insomma, veramente tutte le settimane sarà difficile o probabilmente, magari qualche volta ci mettiamo dentro un Most Wanted invece che un Every Talk comunque sarà un appuntamento editoriale questa settimana, se tutto va bene ottima camicia oggi, 8.7 su 10 grazie tra l'altro mi snellisce Slamp It questa, questo è proprio, ecco, guarda là che silhouette questa settimana, dicevo, se tutto va bene potremo avere un altro studio indie italiano il Team LKA, autore di The Town of Light e, insomma, ha lavoro attualmente su Martha is Dead Dead, o death, dead, Martha is Dead non è la morte, è morta, pooretta anche quello presentato presentato, cioè, insomma, mostrato durante il Future Games Show e poi potremmo avere invece e devo non so se Francesco mi sta seguendo ve lo devo chiamare alle 12 appena stacco questa diretta potremmo avere anche Milestone che domani sera, a partire dalle 8 farà vedere il primo gameplay del titolo dedicato a Hot Wheels e mi faceva piacere, insomma, visto che sveleranno finalmente, insomma, anche quali sono le feature faranno vedere, appunto, del gameplay concreto invece che, oltre al bellissimo trailer in CG che, insomma, aveva annunciato il prodotto mi piacerebbe entrare più nel dettaglio con loro e magari anche farvi raccontare un po', io gliel'ho anticipato, che cosa significa sviluppare un gioco su licenza perché Milestone, sebbene, insomma, si dedichi da tempo al iRacing game sviluppa sia giochi su licenza, sia giochi che, invece, insomma, rappresentano una sua proprietà intellettuale da gravel a ride e, secondo me, potrebbe essere un punto di un talking point interessante capire che differenza c'è come si gestisce una licenza, quali sono i rapporti con il detentore della licenza quali sono le richieste, quali sono le attenzioni quali sono i processi di approvazione potrebbe essere piacevole questa chiacchierata vedo già che in molti chiedono anche, insomma, ospiti tipo internazionali, allora diciamo che non escludo la cosa, però è un po' difficile organizzare una live con un ospite internazionale perché diciamo che l'inglese allunga allunga tutto, allenta un po' il ritmo della diretta perché è chiaro che io non la posso fare solo in inglese perché magari non tutti qua lo masticano insomma, perfettamente e quindi bisognerebbe tutte le volte tradurre e non è semplice non è semplice mi spaventa un po' la cosa anche perché ogni tanto può capitare che qualcosa proprio si perda diciamo in questo processo e che non si inneschi anche quell'area di familiarità lo possiamo dire che quell'atmosfera diciamo un po' più amichevole un po' più un po' meno istituzionale che secondo me fa tanto per la qualità dello show ma vediamo non escludo niente grazie mille al Casau che si abbona per sei mesi e conquista il Gallerdetto d'Oro Leo mi fa piacere che anche tu gradisca quando si allunga tutto va benissimo si possono mettere i sottotitoli solo sere come faccio a mettere i sottotitoli in diretta la posso fare registrata assolutamente se volete anzi è una cosa che stiamo pensando perché ultimamente sempre più spesso ci propongono delle interviste l'abbiamo fatta anche proprio per Returnal così come l'abbiamo fatta per i Takes Two insomma capita spesso e volentieri e stavamo pensando se insomma di registrare queste interviste e poi sottotitolarle ma in diretta diventa un po' difficile o Fustigo il buon Arace lo metto lì a tradurre al volo e a produrre in tempo reale dei sottotitoli oppure oppure è complesso è complesso registrata sicuramente sarebbe più più facile e ripeto ragazzi guardate che le interviste ormai stanno diventando diciamo una consuetudine nel senso che dopo il cioè dopo l'emergenza Covid ormai sono diventate abbastanza regolari però per il momento le abbiamo sempre pubblicate in formato scritto l'abbiamo fatte con Astrobot l'abbiamo fatte con Returnal l'abbiamo fatte con It Takes Two l'abbiamo fatte con anche qualcosa di più piccolino come si chiamava quel titolo Marco ha fatto una chiacchierata e adesso non me lo ricordo però le facciamo almeno un paio al mese ormai capita intanto io mi sto guardando c'ho delle occhiaie che sono spaventose spaventose va bene grazie al maloroso posa con quella camicia quello sguardo quel capello leccato ti manca solo il baffetto e saresti un top attore anni 80 da bollino rosso si potrebbe fare il baffetto sappiate che ho passato una fase in cui ho lasciato i baffi era abbastanza surreale però c'è stata buongiorno buongiorno alonzo buongiorno andre forse hai scambiato un cambio colore ah no no va fatto il cambio colore va fatto ieri siamo passati da blu a verde adesso mi sa che c'è il rosso ma non lo vedo cambio colore led 11 minuti fa va fatto e poi si entra nel vivo via no voglio il rosso ho scelto il rosso andiamo eccolo e di là però non si vede vabbè sappiate che è rosso anche di là ok 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 fossa tramite teams c'è la possibilità di attivare sottotitoli in tempo reale allora non l'ho mai provata non so quanto sia preciso il riconoscimento vocale ci possiamo anche provare adesso che me lo avete detto ci provo ci provo fossa come mai non avete ancora recensito Mori allora Mori lo doveva recensire il buon Cydonia penso che quell'articolo sia rimasto nei suoi hard disk non so come mai non so se lo voleva finire non lo so se stava facendo la seconda run non lo so non ce l'ha mai più mandato e e quindi siamo rimasti un po' appesi ma Fra c'è sempre spazio per Mori se quell'articolo esiste mandalo se per se deve essere finito lascia fare ormai lasciamo fare succede ragazzi che non si possa cioè non è che si può recensire per forza sempre tutto Fra aveva molto piacere io gli avevo detto sì yeah ok e poi però non so esattamente posso provare ad indagare Filacca scusa Fra ho da poco iniziato Sekiro bravo e non ho capito una cosa ma il male del drago si diffonde sia se risorgo sia se non risorgo ma muoio no il male del drago si diffonde con le morti permanenti quindi se tu fai la resurrezione sul campo non non ha influenza sul male del drago a meno che io non stia errando brutalmente ma no cioè quando quando muori definitivamente fra ti serve un horror carino per le horror night se ti serve un horror carino per le horror night cerca moon down allora verde io lo cerco molto volentieri è spaventevole è cattivo moon down scritto proprio moon down che non è cioè non è con la luna no proprio moon down horror tale molto positivo va bene va bene verde mi fido di te stanotte finiamo finiamo andiamo avanti non lo so quanto dura andiamo avanti con visage ci sarebbe scritto dalle 20 no dalle 19 c'è scritto ah perfetto a posto dalle 19 horror night visage ok pensavo ci fosse scritto dalle 21 no dalle 7 si va avanti con l'horror night ho speranza di finirlo se i capitoli sono non sono lunghissimi probabilmente lo finiamo e poi vediamo un po' come come proseguire con le nostre notti horror ecco ziro dice quando lo riporti visage stasera stasera marco pesca si è buona per 8 mesi grazie di cuore ciao fossa ciao chat dice devi purtroppo causa studio in questi giorni non sto seguendo molto twitch quindi potrei essermi perso notizie a riguardo per quanto è prevista la presentazione e il release del nuovo singolo di vance in collaborazione con voi grazie mille scusa se la domanda è già stata fatta è stata fatta ma non avevamo delle date specifiche in verità adesso possiamo dirvi che la prossima settimana ci sarà abbiamo sostanzialmente tutto Giancarlo fra l'altro che ringrazio sta facendo la copertina il titolo c'è e la canzone si chiama Apex che è un termine estratto da Monster Hunter perché ci sono mostri Apex ma vedrete che poi riecheggia con alcune tematiche della canzone perché è il vertice della catena alimentare è il senso di verticalità insomma ci è piaciuto ci è piaciuto e finalmente sto titolo esatto la canzone insomma ha una collab un featuring importante e la settimana prossima ve la presentiamo Andrea fra ma che figata è Narita Boy lo stai giocando ma stai scherzando Andre lo sto giocando con molto entusiasmo me lo sto prendendo a piccole dosi il gioco ha una sua modularità sostanzialmente cioè ci sono proprio dei dei momenti in cui ti puoi fermare e ripartire diciamo non avendo lasciato a metà le cose adesso io sono diciamo alla tricroma quindi sto facendo le case ho fatto giallo blu adesso devo fare rosso e mi sta piacendo veramente tantissimo ieri per esempio dopo che mi sono fatto le prime ore di gioco con Abe proprio il bivio era mi porto a casa la play e continuo Abe o finisco Narita Boy vado avanti a Narita Boy e Narita Boy mi sta prendendo tantissimo e devo dire che il sistema di combattimento è proprio molto molto piacevole non stratificato approfondito come Hyper Light Drifter che cito sempre come uno dei titoli degli arcade in pixel art migliori usciti dal panorama indipendente però però una qualità della scrittura un world building e un'estetica veramente incredibili le musiche molto sottovalutate no perché sottovalutate sono cioè dalla title song in avanti io non ho trovato una traccia brutta cioè a me piace anche dal punto di vista acustico sonoro bellissimo il lavoro che è stato fatto è sempre più bello anche il lavoro di scrittura legato al al coding alla terminologia dello dello sviluppo del 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 hacking del 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 computer in generale se avete qualche anche una piccola infarinatura proprio di 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 sviluppo software ci sono così tante o di architettura insomma hardware ci sono così tante chicche nella scrittura che insomma vi si apre un mondo allora 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 il fatto che ci siano poche ps5 sul mercato può essere motivo di rallentamento da parte degli sviluppatori per fare uscire esclusive di un certo livello beh Luca un pensiero se fossi uno sviluppatore ce lo farei cioè diciamo diciamo così non avrei così tanta fretta perché tanto il mercato per il momento insomma è un po' cioè il mercato la la velocità di diffusione dei nuovi hardware non è particolarmente elevata e quindi se uno si deve prendere qualche mese in più anche per rifinire il prodotto perché non farlo ecco allora allora Zeus c'è qualche speranza che continui The Witcher Tales Thronebreaker magari tra uno due anni una volta che finiranno di sistemare Cyberpunk mi fa ridere una volta che finiranno di sistemare Cyberpunk sai che Thronebreaker non mi sembra che abbia fatto faville diciamo così che abbia rappresentato un successo più che economico commerciale che è una insomma una questione relativa proprio cioè che abbia avuto un impatto concreto sul fandom di The Witcher quindi non lo so se se è una loro priorità soprattutto anche a seguito di quello che è successo con Cyberpunk secondo me hanno bisogno di lavorare su prodotti che possano semmai ristabilire un po' rissanare la loro immagine e riscementare il rapporto fra team di sviluppo e fanbase quindi non credo che sarà una delle loro priorità però è proprio la mia idea non è che ho la sfera di cristallo fra consiglio a tutti ape out verde l'ho già fatto più volte ma va bene mi ripeto ape out visuale dall'alto gioco modello hotline Miami ok diciamo così ma con un ritmo molto particolare scandito costantemente da un accompagnamento musicale dinamico che si appropria delle sonorità tipiche del jazz del bebop ed è esattamente il rapporto fra tessuto musicale e azione che rende quel gioco veramente una perla devo dire che a livello di gameplay mi è piaciuto di più Hotline Miami o altri co-generi simili però è veramente un gioiello anche sul fronte stilistico siete ape out siete uno scimmione che scappa e nel suo percorso travolge ovviamente una serie interminabile di guardi guardiani e via dicendo Andrea ma guardano il mercoledì mattina trollare alle 10 e 24 galel buongiorno fossa ho finito i takes two e sono super triste secondo te anche se siamo ancora ad aprile cosa vincerà a the games award questo piccolo capolavoro ho finito ho finito anch'io i takes two in questo weekend lungo pasquale e non sono stato super triste anzi sono stato ben felice di trovare un gioco così l'ho platinato fra l'altro ho scritto una story se mi hanno bastonato perché ho scritto erano anni che non prendevo un platino perché stavo pensando a Batman Arkham VR e invece mi hanno detto ma non hai preso Astrobot è vero ho preso Astrobot erano mesi che non prendevo un platino e ho voluto prendere il platino di takes two è venuto molto molto naturale perché in realtà se esplori molto durante le fasi di gioco trovi quasi tutti i trofei poi a me ne mancavano quattro forse che puoi andare a recuperare abbastanza facilmente Chaos dice è uscito troppo presto per vincere allora il punto è it takes two è veramente un gioiello molto molto superiore secondo me a A Way Out non che A Way Out non fosse quando è uscito un prodotto capace di mostrare le idee di Fares l'autorealità di Fares e insomma anche di riportare di 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 cementare un concept che secondo me è molto prezioso per il mercato perché è più unico che raro che è quello del gioco cooperativo il cui game design è proprio basato sulla compresenza dei due giocatori che si supportano collaborano e fanno cose anche diametralmente opposte o diverse contemporaneamente che poi però creano diciamo anche nel caso di A Way Out proprio una scena portano avanti il racconto in una maniera sempre diversa l'idea era proprio quella anche di A Way Out di comporre una storia fatta di scene che innescassero una collaborazione o comunque un'interazione fra i giocatori fra i due giocatori e fra i giocatori e il mondo del gioco sempre diversa secondo me i paletti creativi di A Way Out che era un gioco comunque realistico vengono completamente fatti saltare da It Takes Two che avendo questo sottofondo questo racconto fiabesco si può inventare veramente di tutto e lo fa con una costanza e con un'attenzione con una inventiva che sono veramente incredibili non c'è un momento in cui il gioco non ti stupisca e in It Takes Two ogni macro livello ok c'ha proprio delle interazioni estremamente particolari estremamente ben costruite qualcuna si è già vista c'è un livello ambientato all'interno di un albero in cui devi sconfiggere diciamo una colonia di vespe in cui uno dei personaggi ha una melma esplosiva e l'altro ha un lancio a fiammiferi che permette di innescare appunto e far esplodere questa melma ci sono dei livelli in cui si gioca con il magnetismo con le calamite ci sono non voglio entrare troppo nel dettaglio perché anche scoprire quelli che sono gli oggetti che vengono dati a Mei e Cody ai due protagonisti è parte del gioco e fidatevi fino alla fine Fares cioè mette proprio tutto in campo mette in campo tutta la sua personalità veramente esplosiva e sopra le righe attraverso insomma un game design veramente brillante e anche un'atmosfera veramente brillante può vincere qualcosa i Take Two ai The Game Awards io ci spero credo che almeno qualche nomination se la porti a casa e magari anche un un premio bisogna vedere in che ambiti per esempio a me viene da pensare così fin da subito Family Game ce lo mettiamo non ce lo mettiamo alla fine si gioca in due però però si gioca cioè in famiglia si potrebbe potrebbe assolutamente insomma avere un suo rilievo anche in quella categoria più di quanto non abbiano altri prodotti che insomma non sono assolutamente pensati per il multiplayer e di Family hanno solo l'estetica ecco Zavron dice Family Game per esempio sì ma secondo me anche come platform potrebbe dire la sua non è un platform classico è un platform d'azione però è un platform cioè nel senso ricade assolutamente nella categoria quindi anche lì potrebbe dire qualcosa vediamo vediamo hanno messo cose tipo Luigi in Family Game sono d'accordo cioè non c'entra non c'entra assolutamente niente non c'entra assolutamente niente i Family Game sono fatti cioè la categoria Family Game è fatta per dare un premio a Nintendo negli anni in cui non ha roba pesante come Zelda tranciante molto tranciante però in effetti sembra che sia così ciao Fossa sono anni che aspetto un sequel di Battle Chaser Night War Ruined Kid Ruiner King pensi che sarà un degno sequel beh fantozzi più che altro un sequel spirituale a quanto si è visto il concept è proprio ripreso da lì diciamo che è un un po' è diventato forse il marchio di fabbrica del team di Airtight Games si chiama mi sembra di sì no Airtight sono quelli defunti che hanno fatto che hanno fatto Marder and Soul Suspect vabbè insomma scusatemi mi sfugge mi sfugge adesso però ci sta assolutamente insomma che se ti piace quel concept e anche quell'impostazione grafica dei combattimenti tu trovi insomma in Ruined King diciamo uno sfogo a questo tuo desiderio buongiorno Paola felice che ti piaccia la camicia c'è anche Rob buongiorno buon di fossa ciao Rob grazie mille per essere qua in prossimità del gran finale quante possibilità ci sono che qua i Tecmo ci porti un terzo capitolo conclusivo magari in next gen dedicato all'attacco dei giganti ti dirò Rob io non la vedo come una eventualità troppo difficile da da concretizzarsi ok troppo non so implausibile come un'eventualità implausibile perché l'attacco dei giganti funziona bene è un brand che tira tanto a livello commerciale i videogiochi che sono stati sviluppati non sono andati malaccio non sono stati malaccolti nemmeno dal fandom di Attack on Titan bisogna vedere solo una cosa cioè come è messa Tecmo Koei sul fronte dello sviluppo perché le case giapponesi hanno sentito ormai lo sappiamo lo abbiamo capito hanno sentito in maniera concreta l'impatto del del covid dello smart working e via dicendo e quindi solo una questione di tempistiche cioè fare un videogioco e arrivare diciamo molto molto lunghi quando poi l'onda dell'entusiasmo di Attack on Titan magari è un po' scemata forse non avrebbe commercialmente tutto questo rilievo se invece ce la facessero insomma a non allontanarsi troppo dalla fine dell'anime che sappiamo avrà una seconda la terza la quarta stagione avrà una seconda parte a partire dall'inizio del 2022 se riuscissero ad arrivare prima della fine dell'anime o comunque nei pressi della fine dell'anime potrebbe essere un'occasione commerciale sicuramente interessante parlo di occasione commerciale perché è chiaro che quando fai un tie-in quindi un gioco basato su licenza l'elemento economico è centrale anche nell'opportunità dello sviluppo ma io credo che il desiderio insomma di raccontare gli eventi del gioco gli eventi dell'anime e del manga anche attraverso un videogioco ci sia e non escludo l'arrivo è anche vero Caesar che dice come la dati l'ultima parte che è molta che è molto politica quello è interessante sarebbe interessante da valutare però sai bene che insomma non si sono fatti scrupolo di scrivere anche dei capitoli extra di allontanarsi un po' dal sentiero tracciato magari potresti raccontare ora non voglio entrare troppo nel dettaglio però potresti raccontare altri momenti diciamo bellici di Marley diciamo così ok così evitiamo evitiamo spoiler e puoi prendere dei sentieri alternativi puoi assolutamente prendere dei sentieri alternativi Fabbro ci lancia il link per Pacman 99 stamattina a sorpresa è arrivato Pacman 99 che è un battle royale battle royale diciamo così alla maniera di Tetris 99 secondo me Tetris rischia di funzionare meglio rispetto a Pacman però vediamo perché sono quelle sono quelli quelle idee diciamo un po' particolari che vanno proprio valutate fra volevo chiederti una cosa dice Andre ieri sera parlavo con un amico della grandiosità di Death Stranding oh e di quanto ci ha insegnato non ti ho mai chiesto la tua in merito ma ho sempre creduto ne fossi rimasto in parte deluso raccontami un po' la tua esperienza con Sam Porter se ti va no Andrea no fermi fermi perché in parte deluso assolutamente il contrario io sono rimasto cioè guarda allora non è un gioco perfetto dal punto di vista narrativo e ci sono dei momenti delle lungaggini ammantate di un lieve patetismo che non pienamente mi ha convinto ma sto parlando di questioni esplicitamente secondarie cioè la ormai famigerata quest della moglie e il marito insomma però sono questioni veramente minoritarie nell'economia narrativa e ludica della produzione io l'ho trovato un prodotto eccezionale da quasi tutti i punti di vista appunto tranne queste piccolezze ma che si possono un po' derubricare e insomma a questioni davvero marginali nell'economia del gioco per me è uno incredibile il lavoro di fondazione di una nuova branca della fantascienza che si si fa ricadere nel macro genere della fantascienza intimista chiaramente ma è nuova in tutto è nuova nei termini è nuova nell'iconografia è nuova nell'immaginario è per me meravigliosa è una fantascienza non astrale è una fantascienza molto terrestre però è proprio bellissima è così ma ha testimoniato quanto in effetti sia brillante anche nel processo di fondazione e formazione di di una nuova appunto di un nuovo mondo di un nuovo immaginario ecco il racconto a me è piaciuto dall'inizio alla fine con alcuni colpi di scena sì forse un po' telefonati ma comunque raccontati in una maniera che non ti può lasciare indifferente sì capisco chi mi dice ah ma si intuiva alcune cose si intuivano sì alcune cose si intuivano però poi quando le vedi comunque ti viene un magone e ti tira fuori delle emozioni che sono non comuni nel mondo dei videogiochi quindi lascia fare ovviamente recitato in maniera incredibile con alcuni momenti davvero indelebili la scena di Die Hardman per me bellissima proprio bellissima e anche a livello ludico io lo trovo lo trovo che sia un prodotto che purtroppo da qualcuno è stato raccontato come ohioi la roba noiosa il simulatore il Bartoli il simulatore di consegne ma che è in realtà già brillante nel costruire un simulatore così sfaccettato così stratificato a livello di gameplay ma che comunque riesce anche inserendo delle parti d'azione che secondo me sono tutt'altro che brutte a superare agilmente i confini di un genere che in effetti può spaventare tanti utenti e io lo dico sempre ragazzi giocatelo perché riesce comunque ad avere quella varietà anche action che vi permette anche di superare cioè che vi permette di entrare in contatto anche con un genere che molto spesso è fatto di processo di attese di metodo anche in Death Stranding c'è questa fase la fase di costruzione delle infrastrutture la fase di processo intesa come miglioramento delle proprie della propria capacità di attraversare una certa parte del mondo però c'è anche un elemento sicuramente più movimentato che secondo me rende digeribile la componente da simulatore anche a chi quella componente magari in altri prodotti proprio non riesce ad accettarla per via delle sue tempistiche chiaramente queste tempistiche sono molto determinanti anche nell'economia di Death Stranding cioè le lungaggini ci sono però sono anche molto più digeribili appunto anche dal grande pubblico quindi per me è proprio in generale un'operazione eccezionale grazie a Verior che si abbona per 19 mesi Death Stranding capo la goti sono abbastanza d'accordo fammi vedere se riesco a ribeccare Andrea io sono dell'idea che forse come mai nessuno prima Death Stranding sia riuscito a fare del gameplay il principale mezzo per trasmettere il messaggio morale al giocatore è vero anche questo Andrea è una considerazione molto molto lucida secondo me non è l'unico esempio Death Stranding in cui il messaggio passa dal gameplay però è vero che sia uno dei degli esempi più concreti il gameplay è proprio una funzione ti trasmette emozioni ti trasmette amplifica alcune caratteristiche proprio del mondo di gioco e sono caratteristiche che servono poi hai ragione tu per trasmettere un messaggio quindi sì è proprio per me uno degli esempi più concreti di fusione fra anche fra racconto e gioco perché è vero che ci sono anche i momenti in cui è film anzi cioè il gioco finisce con un film lo possiamo dire cioè alla fine arrivi e ti guardi letteralmente 50 minuti di materiale non interattivo quindi c'è anche quella componente che in realtà viene portata avanti da Kojima fin dai tempi insomma di Metal Gear in cui il linguaggio del videogioco si interrompe e là cioè il linguaggio i metodi l'interazione cioè le caratteristiche specifiche del videogioco si fanno da parte e ti lasciano solo di fronte a un qualcosa che è puramente spettatoriale però c'è anche la parte invece proprio più spiccatamente legata alle specificità del medium videogioco che è quella in cui il racconto l'emozione passa attraverso l'interazione e chi dice il contrario secondo me The Stranding non l'ha giocato c'era Lilith l'ho visto perché mi perdo ste robe si è buona Lilith si è buona per 12 mesi everyversario ed eccomi arrivata all'everyversario volevo semplicemente ringraziare te e tutta la redazione per averci fatto compagnia durante questo anno così turbolento grazie e continuate a spaccare tutto grazie di cuore volevo leggere perché il messaggio dell'everyversario è anche importante ok quindi grazie Andre fra l'altro per la domanda è sempre bello tornare anche a parlare di prodotti che magari insomma non sono proprio attualissimi legati al periodo perché insomma sono usciti un po' di tempo fa ma sono in realtà estremamente preziosi per il mercato e in questo caso anche attualissimi nei temi forse Death Stranding è l'esempio di un gioco quasi chiaroveggente veramente quasi chiaroveggente esattamente quanto è stato pochi mesi dopo forse un anno dopo adesso non mi ricordo esattamente quando è uscito però esattamente ecco a breve distanza dal momento in cui Kojima ha tratteggiato questo mondo fatto di solitudini fatto di connessioni perse connessioni da recuperare fatto di fattorini ribadendo quant'è importante l'infrastruttura per creare appunto una connessione è arrivato il covid e ci ha dato un assaggio molto concreto di di un mondo con quei tratti lì zenigata giustamente dice si si appoggia il pad e ci si vede 45 minuti dopo ma io è la prima cosa che ho detto non so se vi ricordate le live che abbiamo fatto proprio su Death Stranding sul finale anche con Alessandro cioè il gioco finisce con un film non si può dire diversamente arrivi al finale del gioco e sblocchi Death Stranding the movie però comunque ci arrivi dopo beh un discreto quantitativo di ore ben partecipate estremamente partecipate chiedo scusa per la ripetizione della domanda dice Dave avete provato il nuovo DLC di Isaac se si qualche parere riguardo per quanto abbia giocato centinaia di ore sono diversi mesi che non tocco il gioco e sono un po' timoroso dell'effettiva mole contenutistica dell'ultimo DLC dato che al tempo giocai anche Antibirth guarda purtroppo Dave come ho già detto spesso io Isaac l'ho consumato diciamo in versione vanilla e non mi sono avvicinato ai DLC lo so che dovrei farlo mi bacchettate sempre quando l'ho fatto però non sono la persona giusta per dar conto di questo DLC lo stiamo giocando vogliamo proporvi la recensione ma non posso essere io a darvi conto insomma del valore di quel DLC chiedo chiedo scusa però ragazzi succede non si può avere una visione completa di tutto il mercato è una cioè dobbiamo accettarla questa cosa Aaron Dualshock ciao Fossa credo di non aver mai visto un periodo così spoglio nel mondo videoludico fino a qualche anno fa il periodo meno intenso era luglio-agosto ma mi sembra che quest'anno intero dopo Cyberpunk sia stato alquanto deludente ci sarà tempo per recuperare continuate a dirci di non avere grosse pretese durante gli showcase ma per uno come me che si è appena fatto il pc nuovo o per altri che hanno acquistato le nuove console non credi sia quasi un dovere fornirci i titoli all'altezza allora è una domanda interessante che anzi che spero apra degli spunti interessanti mi prendo un po' di tempo perché secondo me c'è un bel discorso da fare e spero che vogliate poi contribuire insomma anche alla discussione dicendo la vostra il mercato videoludico negli ultimi anni ci ha abituato a tenere un ritmo di comunicazione ma anche di consumo del prodotto incredibilmente frenetico ok siamo sempre stati alla ricerca di the next big thing era proprio tutto il sistema che ci spingeva ad avere quella modalità proprio dico di consumo perché ogni tanto io mi sentivo quasi di trovarmi trascinato da questa tendenza e mi sentivo appunto di di essere una situazione in cui dovevo quasi correre finire i giochi al di là di quello che poi dovevo recensire al di là del lavoro proprio come utente dovevo finire i giochi perché poi arrivava quello dopo io capisco che siamo in un momento molto particolare perché c'è un rinnovo generazionale tu giustamente Aaron hai anche citato chi si è fatto un pc nuovo e anche su pc in effetti sono arrivate delle nuove tecnologie nuovi pezzi di hardware che suggerisce invogliano a guardare al futuro tecnologico con estrema curiosità e che quindi si senta tutti sia gli utenti console sia gli utenti pc il bisogno di qualcosa di di nuovo di fresco di inedito di rompente a livello scenico e tecnico c'è questa sensazione ed è un peccato che il covid abbia rallentato o comunque abbia rimandato un po' il momento in cui questa urgenza troverà pagamento perché è inevitabile che se il mercato è così è anche a causa della pandemia che ha allentato i ritmi di produzione allungato i tempi di pubblicazione e via dicendo però però io non sono proprio scontento di questa situazione anzi devo dire che forse sono anche un po' felice di certe tendenze che sto vedendo una di queste per esempio è anche la maggiore disponibilità del pubblico ad aprirsi verso prodotti un po' diversi dal solito un po' più piccolini un po' più originali la fame che avevamo prima l'hype che avevamo prima non si è sopita noi siamo ci siamo abituati come giocatori a giocare tanto e a esplorare con curiosità il mercato e visto che adesso magari insomma il mercato dei grandi AAA dei grandi blockbuster pubblica con ritmi un po' meno intensi in questi momenti fra un grande gioco e l'altro non che manchino le grandi produzioni perché comunque Monster Hunter Rise Rise è un prodotto AAA fatto e finito con le spalle larghe e con un impatto comunicativo bello forte poi ci sarà Resident Evil comunque arriva anche qualcos'altro che non è proprio AAA ma supportato da una campagna di comunicazione importante penso a Returnal e via dicendo lo stesso Outriders insomma non è che mancano le grandi produzioni però è vero escono con ritmi sicuramente più trattenuti e e poi non tutte sono magari insomma così universali è chiaro che magari qualcuno Monster Hunter non gli interessa qualcuno non gli interessa Outriders e quindi si allunga ancora di più il tempo fra un blockbuster e l'altro per diversi utenti ecco in questi interstizi secondo me il pubblico ha imparato anche a guardare con interesse a una Rita Boy a una produzione un po' più piccolina durante gli showcase si sono visti tanti titoli indie che secondo me hanno risvegliato l'interesse del pubblico ci sono anche grazie al Game Pass dei moti di riscoperta di grandi prodotti che altrimenti sarebbero rimasti infilati in backlog interminabili e invece c'è qualcuno che si gioca a Prey c'è qualcuno che si recupera Sekiro come insomma ecco a me piace anche un mercato dai ritmi meno martellanti ok sono però ripeto sono anche consapevole che si l'anzi il bisogno di next gen l'urgenza di next gen si sente è uscito una piattaforma ed è anche cioè è uscito una piattaforma è uscita una nuova generazione una serie di piattaforme ed è anche legittimo che qualcuno insomma la voglia sfruttare appieno per me Sony non sta facendo male sul fronte insomma considerata la pandemia non sta facendo male sul fronte delle pubblicazioni anche di prodotti esclusivi Microsoft lo sapevamo che sarebbe stata un po' in ritardo perché le acquisizioni sono arrivate un po' più in là proprio a ridosso insomma del lancio della nuova generazione però Microsoft si sta facendo assolutamente per donare appunto con il Game Pass innescando proprio come dicevo anche questa questo moto di riscoperta e quindi a me non dispiace un mercato così e lo dico ragazzi guardate anche contro un po' l'interesse diciamo di un sito che ovviamente sul 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 senso di attesa sulla capacità di raccontare magari anche in anteprima i nuovi titoli che arrivano e sulla capacità insomma di cavalcare l'entusiasmo dei grandi AAA costruisce anche parte della sua della sua funzione però ecco se in questo momento possiamo invece assolvere un'altra funzione che è anche quella di parlare di un titolo uscito qualche anno fa di suggerirvi che cosa recuperare sul Game Pass a me non dispiace tantissimo anzi sono abbastanza contento ci volevo scrivere proprio un pezzo su questa cosa grazie a Pitagora per i nove mesi di abbonamento e grazie anche a Davitech che ha regalato un abbonamento a Scabu grazie mille di cuore per questo dono scusa la domanda ma cosa hai fatto alla mano ah si vede qua mi son bruciato con il forno perché questo fine settimana di Pasqua abbiamo colto l'occasione visto che si poteva andare a trovare gli amici abbiamo peri per invitare Todd e ho cucinato del chili e anche del ramen un giorno e un giorno e mi sono bruciato sul forno vi ringrazio per aver chiesto per interessarvi anche delle mie bazzecole quotidiane Gabricom se posso dire la mia anche l'inizio della precedente generazione non fu proprio Rose e Fiori mi ricordo ancora il periodo inizio 2014 in cui l'unica cosa davvero grossa che era uscita fu Dark Souls 2 e a livello di next gen la prima cosa che mi fece comprare le nuove console fu Bloodborne praticamente un anno e mezzo dopo questa volta con anche di mezzo il covid ci vorrà tempo in questo periodo però stanno uscendo degli indie dei doppia incredibili come Loop Hero e It Takes Two Gabricom guarda non saprei che cos'altro aggiungere nel senso che a tutto il discorso che ho fatto si aggiunge anche il fatto ma questo l'abbiamo detto ancora prima che uscissero le console che ogni generazione per ingranare ha bisogno sì di un anno e mezzo due è chiaro che già cioè che a questa a questa consapevolezza si aggiunge appunto anche il covid io credo che senza covid la penetrazione sul mercato dell'hardware sarebbe stata molto maggiore probabilmente avremmo visto diciamo strategie di pubblicazione lievemente più intense non ti sto dicendo che avremmo avuto una generazione esplosiva fin dal giorno 1 però secondo me cioè già Sony ti aveva fatto intuire che la strategia di pubblicazione originale delle sue esclusive sarebbe stata un po' più avrebbe dovuto essere un po' più martellante ecco mentre adesso si stanno un po' diluendo le cose quindi probabilmente tu hai citato Bloodborne che era uscito esattamente un anno e mezzo dopo l'arrivo delle console ci sta che per ingranare questa gen ci metta un po' più di un anno e mezzo magari anche un po' più di due anni vai a sapere ecco volevo recuperare Aaron che volevo ringraziare NecroDeath che si abbona grazie mille e grazie anche Antonio che mi manda un bacino sulla bua ho perso completamente Aaron DualShock che aveva innescato questa discussione eccolo ci sta il mercato dei ritmi meno martellanti ma c'è un ma a questo punto non dovremo pretendere qualità migliore generale ancora oggi si vedono uscire dei giochi AAA con numerose problematiche che siano semplicemente visive o problemi di vero e proprio gameplay e non voglio riferirmi ad alcun gioco particolare però Aaron sono d'accordo che il rinvio debba cioè il rinvio o comunque l'allentamento dei ritmi di produzione debba permettere anche cioè debba far seguito anche ad una maggiore attenzione dal punto di vista produttivo però ecco le cose si stanno verificando proprio adesso cioè i problemi per esempio di cyberpunk sono imputabili a questioni produttive di diverso genere bisogna vedere se ecco i prodotti che arriveranno da adesso in poi avranno come dici tu quella saranno rifiniti al meglio e quindi avranno utilizzato magari questi ritmi meno intensi anche per lavorare sul polishing in una maniera in cui magari fino ad ora non si lavorava o comunque si lavorava post lancio diciamo con una serie di patch sono d'accordo con te che ci debba anche essere quella richiesta lì da parte del pubblico credo che ci sia proprio un pre e post cyberpunk e che si debba valutare da adesso in poi se quella cosa succede o meno c'era un paio di messaggi grid giorno caro fossa ho chiesto anche ieri ad Ale ma vorrei anche un tuo consiglio sto per finire Final Fantasy VII remake e arrivo dal recupero di Red Dead Redemption 2 God of War ora mi trovo a non sapere cosa giocare tra le alternative spiccano Ghost of Tsushima Bravely The Fault Horizon oppure mi incuriosiva Persona 5 e Monster Hunter World mi servirebbe un titolo che mi accompagnasse fino all'uscita di Ratchet grazie per la risposta e complimenti a tutti per l'ottimo lavoro non so che cosa ti abbia indicato Ale come suggerimento io andrei sugli ultimi due Monster Hunter World e Persona 5 che sono due robe completamente opposte e a quel punto demando a te la ti dico guardati dentro e cerca di capire che cosa desideri se hai bisogno di un gameplay un po' più dinamico e magari anche vuoi aprirti al multiplayer Monster Hunter World con Iceborne incluso secondo me ti porta in maniera proprio agile al Ratchet & Clank dall'altra parte c'hai un'esperienza che secondo me a cui secondo me potresti dare priorità nel senso che Persona 5 soprattutto in versione Royal è veramente stratosferico ti può accompagnare agilmente per oltre 120 ore ma proprio senza senza nessuna fatica però è un genere che di per sé è un po' insomma ti deve piacere il JRPG e i ritmi di combattimento del JRPG ti deve piacere oppure deve essere disposto a scoprirli se non l'hai se è una cosa che non hai mai giocato io personalmente se dovessi fare ordine fra questa tua questo tuo elenco di backlog ideale metterei prima Persona 5 poi Monster Hunter World poi Horizon e poi Bravely Default 2 e poi Ghost of Tsushima lo personalmente farei così mentre Stone Cold Randy dice io farei Horizon o Ghost of Tsushima sono due prodotti che chiaramente si prestano anche un po' meglio ad una fruizione più leggera sicuramente di persona ma anche di Monster Hunter che comunque richiede attenzione e dedizione Ghost of Tsushima e Horizon sono degli open world che ti fai anche con più con più leggerezza però non solo la leggerezza deve essere un valore nel senso che non mi sembra che tu stia cercando visto che ti deve accompagnare fino a giugno non mi sembra che tu stia cercando un prodotto da giocare così a spizziche bocconi ecco se tu avessi magari solo un mesetto di tempo che ti separa dal prossimo gioco che hai deciso di giocare forse anch'io ti consiglierei un open world così un po' più non superficiale perché non sono superficiali ma che proprio a livello strutturale ha anche la capacità di lasciarsi giocare per sessioni un po' meno approfondite e intense e andrebbe benissimo anche un Days Gone andrebbe benissimo uno Spiderman e via dicendo visto che c'è qualche mese secondo me faresti bene a cercare un prodotto che proprio ti assorbe concretamente e sicuramente sia Monster Hunter che Persona sono i prodotti giusti la puntata di Wazeland ve l'ho promessa ad aprile aprile appena iniziato e ad aprile arriverà fossa ho Jedi Fallen Order Control Monster Hunter World Immortals e Demon's Souls da giocare mi puoi fare una tua scaletta oddio sono tutti belli cazzo eh questo è difficile questo è cazzo difficile Stormbreaker io ti direi ti direi fatti control control si parte da control bello bella fantascienza ci sta control Demon's Souls Jedi Fallen Order Monster Hunter World Immortals così così sempre dice ordine cronologico di uscita vabbè anche quello però è un modo per non rispondere ordine cronologico ma solo io mi lascio il meglio per ultimo eh Marzia il problema è che se ti lascio il meglio per ultimo rischi di non giocarlo mai perché se poi ti arriva un'altra roba nel backlog che vuoi fare eh no va bene al meglio lo lascio per ultimo va bene e ti fai un'altra roba poi esce un gioco ma sì dai ce lo metto tanto poi il meglio me lo lascio per ultimo in questa maniera Marzia è un po' rischiosetto sì ragazzi Jedi Fallen Order è molto molto bello io ma infatti l'ho messo per terzo sì cioè non ora per me Control a me Control piace di più e gli riconosco uno sforzo anche produttivo diverso ma è già passato un'ora e dieci amici ma io vi adoro ma io cioè nel senso vola veramente niente il tempo è già passato un'ora e dieci ma bisogna allungare questo appuntamento mattutino dicevo Control mi piace di più perché c'è anche un'operazione di coniazione di un nuovo immaginario grazie Dave che sia buona devo imparare non per otto mesi sia buona per l'ottavo mese a livello 1 dicevo Control mi piace di più perché crea una mitologia inedita però il lavoro che fa di Fallen Order ma tanto di cappello a Resport Entertainment che porca miseria Electronic Arts è uno dei team migliori che c'hai vogliamo vedere di valorizzarlo in questa generazione vogliamo vedere di valorizzarlo invece che fare delle strategie di pubblicazione dei loro titoli che sembrano fatte da un bambino degli elementari che cazzo anche Dave Fallen Order ci siamo dovuti spendere chissà quanto per far capire che era un prodotto figo perché non l'hai comunicato sostanzialmente non lo so sembrava un te fregasse nulla e poi insieme a Titanfall guarda caso è una delle cose migliori che ti è uscita da tutta la cazzo di una generazione sbagliata completamente sbagliata porca miseria esatto Umberto dice vorrei ricordare come Dave Fallen Order è stato annunciato vorrei ricordarlo anch'io vorrei ricordarlo anch'io all'interno di una conferenza comunque da buttare comunque da buttare a livello di gestione contenuti ma negli interstizi fra una programma fra un una presentazione e l'altra nel mezzo c'era questa non lo so chiacchiera informale che doveva essere puramente riempitiva e quindi che non doveva idealmente insomma dare informazioni concrete sul publishing sullo sviluppo in cui il raggiunto dall'intervistatrice il tipo di non mi ricordo chi fosse esattamente il tipo di respawn così seduto nel mezzo alla platea che era a corsa lì all'EA Play sulle boulevard di Los Angeles disse ah sì stiamo anche sviluppando un nuovo action ambientato nell'universo di Star Wars punto ci puoi di qualcosa di più? no è chiaro era zampella ok è chiaro che poi la gente ti prende poco sul serio ma al di là di quell'annuncio cioè Jedi Fallen Order avrebbe meritato un percorso comunicativo molto più convinto quel gioco ce lo dovevano far vedere ragazzi ma quel gioco lì era arrivato fra l'altro in un momento in cui Star Wars come brand al cinema era in forte crisi e ha fatto delle cose con la mitologia canonica di Star Wars che sono eccezionali e che secondo me io lo ribadisco sempre chi era in fissa con Star Wars magari già lo conosceva perché aveva letto cose nell'universo espanso e via dicendo cioè ma ha fatto vedere delle robe fondamentali per i Jedi per il percorso di formazione dei Jedi ha spiegato robe sulla spada laser che invece la nuova trilogia lasciava completamente così implicite e cioè è proprio cioè ha riportato sul pianeta nativo di Darth Maul cioè perché perché è stato è stato proprio cioè non lo so il marketing l'ha fatto il passaparola degli utenti non va bene così non va bene così stanno tirando fuori anche un sequel ufficialmente non si sa non mi sembra che abbiano confermato il sequel di Jedi Fallen Order però se non lo facessero sarebbero veramente dei pazzi tutti fra ieri ho visto il video di IGN della Mass Effect Legendary Edition per essere una remastered classica mi sembra un lavoro eccellente tu come lo giudichi Mirko sono sono d'accordo con te mi pare che appunto per essere per l'operazione che è non è un remake se contestualizziamo se capiamo che tipo di operazione è probabilmente uno dei migliori lavori di remastering che mi sia capitato di vedere di recente chiaramente si sta parlando ovviamente dell'impatto visivo poi ci sarà sempre chi dice ah ma guarda ma non è un gioco next gen no non lo è perché chiaramente non vuole essere quello il punto però come lavoro di ammodernamento visivo mi sembra eccellente Reddox si è buona per la prima volta con Twitch Prime grazie Gabricom ma secondo te esiste la possibilità che in periodo e tre salti fuori a qualche evento il buon Kojima con l'annuncio di un nuovo progetto è troppo presto a livello personale Death Stranding è stato per me il miglior gioco della precedente generazione nonché uno dei miei preferiti di sempre e non vedo l'ora di sapere di più sul futuro di Kojima Production piccolo extra Death Stranding è anche il gioco che mi ha avvicinato alle live di Every Eye mi ricordo che tutto cominciò con la maratona live manine mamma mia allora rispondo alla prima domanda e poi mi faccio questo questo remember yesterday io credo che Kojima si possa pensare di annunciare qualcosa in periodo e tre gli indizi puntano tutti in quella direzione Shinkawa il compositore sembra che che un annuncio possa arrivare non mi aspetto chiaramente ma così come non è stato neanche per Death Stranding che sia un annuncio che ci fa capire tutto quello che che tutte le caratteristiche del nuovo prodotto anzi Death Stranding insomma abbiamo speculato per anni prima di capire esattamente di che cosa si trattava e credo che Kojima voglia portare avanti anche questa strategia di comunicazione basata anche sul mantenimento di un certo alone di mistero però un annuncio se non è cioè io comunque entro l'anno me lo aspetto diciamo così e riguardo al piccolo extra non so se vi ricordate quella pazzia totale che decisi di fare quando quando annunciarono quella quel reveal molto particolare quel reveal molto particolare lanciarono sostanzialmente una diretta twitch in cui c'erano c'era questo questo alone bituminoso che poco a poco si disvelava e lasciava intravedere qualche cosa sotto solo che non si sapeva esattamente quando sarebbe arrivato l'annuncio e io prima decisi così di andare live la sera tardi probabilmente aspettando la mezzanotte o comunque luna una cosa del genere poi disse ah beh dai stacchiamo vado a letto ripartiamo domani e ripartì la mattina ma probabilmente l'annuncio arrivò alle 6 del pomeriggio una cosa del genere e c'erano tutte ste manine che compadì era bellissimo perché poi io mi spostavo mi spostavo la finestrella cercando di rimanere nella zona appunto oleosa ok con tutte ste mani che piano piano poco a poco rimuovevano questo strato di unto che offuscava la visuale ed era bellissimo perché c'era comunque un qualche criterio di per cui le manine aumentavano a seconda del numero di viewer dell'interazione in chat non si capiva benissimo però erano tutti lì a spammare sul canale è stato veramente una roba folle forse eh sì forse diciamo la l'antesignano a livello insomma di live delle maratone di attesa per per un evento di annuncio di qualche cosa esatto l'indon dice un po' come quando abbiamo seguito il disegno di Valhalla comporsi poco a poco lì era proprio lì è stato in pieno covid e è stato l'inizio diciamo dell'inizio ufficiale delle maratone di annuncio di un prodotto di un evento è stato bello lì erano otto ore di diretta otto ore di diretta salto and pepper dice io vi ho conosciuto con il disegno di Valhalla bello bello bei ricordi bei ricordi bei ricordi il disegno di Valhalla sì è stata la prima maratonona per l'annuncio di Valhalla che poi è stato bellissimo perché quel contenuto cioè io sono molto felice di quel contenuto perché è un contenuto che poi non ha svelato sostanzialmente nulla del gioco anzi poi è rimandato tutto all'arrivo di un futuro trailer e quando è arrivato il trailer siamo rimasti molto delusi perché ci aspettavamo di più però è stato proprio bello il concept di quel reveal perché quel disegno fatto così quel timelapse fatto così ti cambiava prospettiva ogni mezz'ora ti tirava fuori cioè non sapevamo ancora dove sarebbe stato ambientato il nuovo Assassin's Creed quindi insomma c'erano varie teorie che di volta in volta si si avvicendavano molto bello molto molto bello sì sì fatto fatto veramente bene ci fu la maratona di otto ore di Ale su Death Stranding sui primi tre capitoli sì Mako Chan no no ma le maratone sui giochi o le mini maratone diciamo non le avevamo fatte anche in passato stavo parlando proprio delle maratone legate agli annunci dei prodotti sì Death Stranding è stata proprio diciamo quella un po' primordiale e quella di Valhalla è stata la prima ufficiale ecco buongiorno Fossa ti parla un non amante di questi ma vorrei un tuo parere su giochi come FIFA o sportivi del genere e Fortnite solo per pura curiosità da spettatore di Every Eye uh allora Fabio tanto stai ciao Ale buongiorno benvenuta stai citando due prodotti che in comune hanno solo il loro essere estremamente popolari perché Fortnite con gli sportivi c'entra veramente poco e poi anche all'interno degli sportivi chiaramente ci sono molte distinzioni da fare nel senso che una cosa è proporre uno sportivo a cadenza annuale con tutte le problematiche che la cadenza annuale determina ovvero carenza di innovazione da un capitolo all'altro e quindi aggiornamento un po' diciamo poco convinto in certi momenti e invece poi magari con dei capitoli che cambiano più concretamente o il gameplay o la tecnica ecco e dall'altra parte c'è FIFA che fa una cosa ancora diversa che da una parte si propone come gioco calcistico sportivo a cadenza annuale dall'altra si propone come macchinetta cioè come gacha game alla fine perché diciamo la verità qui lo è con foot ok quindi cioè sono proprio tendenze e direzioni opposte fortnite sportivi FIFA ultimate team cioè sono proprio tre cose diverse fortnite partiamo da fortnite che cosa ne penso di fortnite beh penso che sia una roba incredibile incredibile e e che se il successo cioè che il successo che ha avuto dipenda fortemente dalla qualità dell'idea del prodotto e dalla forza dell'idea che ci stava dietro un'idea che non è stata neanche fondata diciamo da grazie a Ikki per i 38 mesi di abbonamento grazie grazie 38 sono tanti dicevo un'idea che non è Piro il pezzo di Benz arriva settimana prossima si chiama Apex come i mostri Apex di Monster Hunter e dicevo l'idea che non è stata concretizzata nemmeno da fortnite stesso ma da players non battleground e che poi fortnite ha preso e ci ha costruito sopra non solo una modalità ma un impero però quell'idea era l'idea giusta al momento giusto funzionava tanto e si adattava benissimo secondo me all'iconografia e al gameplay di fortnite che era meno serioso meno simulativo ok prendetelo fra molte virgolette rispetto a players non battleground e che quindi riusciva a parlare ad una platea molto più ampia io l'ho frequentato il battle royale in quei mesi lì nei mesi in cui si si stava stava diventando un fenomeno sia ho giocato sia player non battleground sia fortnite e devo dire che insomma vuoi per occasione vuoi per calcolo però fortnite fu anche all'epoca il gioco che riuscì a trattenermi un po' di più e a incuriosirmi un po' di più anche grazie insomma a questa cosa delle costruzioni a questa a questo layer di complessità aggiuntivo che veniva messo on top sopra a una base fatta appunto di battle royale classico a partire da lì quindi da quella qualità e da quel secondo me valore anche ludico perché ce l'aveva assolutamente grazie a Leo che si è buona per la prima volta Leo Tower grazie ecco a partire da quella base poi fortnite insomma è esploso ed è diventato oggi qualcosa di più è diventato non più un'esperienza ma una piattaforma una piattaforma a cui io trovo difficile riavvicinarmi proprio perché è titanica e capace di rigurgitare addosso ai suoi utenti una quantità di contenuti impressionante ok grazie a Marco il breeze che conferma l'abbonamento per il secondo mese e dicevo questa quantità di contenuti è ovviamente soverchiante è molto difficile starli dietro ed è chiaro che ormai fortnite è diventato appunto un prodotto che assorbe completamente i suoi utenti e molto spesso come questi grandi prodotti fanno ma non lo fa solo fortnite lo fanno anche tanti titoli competitivi lol counter strike via dicendo assorbe completamente il tempo delle persone che decidono di approdarci ok fortnite ha avuto anche un merito incredibile che è quello di delineare un immaginario cromatico stilistico è perfetto per parlare ad una generazione che era rimasta quasi senza videogiochi alla fine perché i giovani adolescenti diciamo che i videogiochi avevano i videogiochi narrativi avevano intrapreso un percorso di maturazione che parlava anche a fasce di pubblico diciamo un po' più mature e via dicendo ecco i giovani adolescenti erano rimasti senza un prodotto di riferimento nel mondo videoludico senza un insieme di prodotti di riferimento fortnite è riuscito a parlare a quella fascia di pubblico e l'ha presa tutta l'ha conquistata tutta quindi bella lì bella per loro così come minecraft invece è riuscito anche grazie alle mod a prendere un'altra fascia di pubblico un po' più giovane ecco fortnite probabilmente si è messo subito dopo e fra l'altro secondo me tanti utenti che al videogioco all'ambiente interattivo si sono avvicinati magari con minecraft poi hanno sentito il bisogno di qualcosa di più hanno trovato subito un'altra community altrettanto grande altrettanto inclusiva un'altra piattaforma capace di essere tutto ok perché minecraft era tutto perché minecraft ci facevano i talk show su minecraft ci facevano i survival su minecraft ci facevano le storie della buonanotte su minecraft quindi era diventata un'esperienza che andava oltre l'interazione diretta con il mondo di gioco era diventato qualcosa di più hanno trovato un'altra piattaforma che voleva e sapeva essere tutto perché su che vuole e sa essere tutto perché su fortnite ci sono concerti ci sono premiere ci sono partite di calcio ci sono comparsate di qualsiasi personaggio pop qualsiasi supereroe c'è tutto e quindi bravi cioè nel senso fortnite merita tutto il successo che ha perché è un prodotto unico e perché è un prodotto che ha saputo interpretare le esigenze di un'intera generazione questa è la verità grazie a jay danton che si è buona per sei mesi siamo a metà metà dell'aeriversario galli ha detto avro esatto martinelloni tutto tutto gabriel dice il punto è che fortnite senza eventi smette di funzionare vabbè ho capito e se la minonna aveva le rota era un carretto nel senso ma gli eventi ci sono cioè gli eventi e non dico gli eventi la premiere di star wars la premiere di tenet il concerto gli eventi cioè nel senso gli eventi in game quindi l'aggiunta di nuove cose la stagionalità il buco nero il cubo viola senza quelle cose fortnite non funziona e si esaurisce sì ci sta è assolutamente possibile è diventato così grosso che il percorso di esaurimento sarebbe sufficiente a coprire altri anni di fama però il punto è che cioè se quelle cose ci sono non è che le fa la community cioè le fa il team di sviluppo che ha messo in piedi una macchina produttiva incredibile e clamorosa per far sì che quel gioco continua ad aggiornarsi in quella maniera e con quella frequenza e e quindi bella per loro cioè anche quello è un merito cioè anche aver capito che il tuo prodotto per restare sulla cresta dell'onda deve proporre quella cosa lì e essere riusciti a proporre a produrre quella cosa lì è tanto di cappello cioè ci sono dei game as a service che vogliono durare dieci anni e poi fanno un contenuto ogni otto mesi e c'è fortnite che tutte le settimane c'ha comunque un aggiornamento un evento un cioè anche solo la inventiva che ci mettono nelle sfide della settimana cioè e vai a ballare di fronte cioè anche i piccoli enigmi con cui innescano la community per me sono segno di un processo produttivo estremamente virtuoso grazie a Alexiak che si abbona per sette mesi per il settimo mese e grazie a Fistreni che si abbona per ventuno mesi abbiamo provato Nier Replicant a quanto la recensione l'abbiamo provato abbiamo pubblicato un anteprima la recensione un po' più sottodata il gioco esce il 23 quindi torna al 20 probabilmente anche se ancora non abbiamo l'embargo e poi ragazzi cioè nel senso non è un gioco a cui ripeto mi potrei avvicinare adesso però non ne capisco neanche cioè ne capisco i meriti e non capisco l'astio che alcuni provano per esempio io ho più astio nei confronti di Foot tornando a un altro dei titoli che citava Fabio ecco Foot per me per me no sapete che io non sono amante dei giochi di calcio non sono amante dei giochi sportivi in generale però capisco benissimo il FIFA annuale capisco benissimo l'NBA annuale quando il FIFA annuale si trasforma ripeto non più in un gioco di calcio ma una delle sue modalità diventa veramente un gacha game che ogni mese cambia le regole del gioco e i rapporti di forza dei suoi calciatori per spingere il pubblico dico ogni mese ma insomma saranno ogni stagione facciamo così per spingere il pubblico a riacquistare da capo delle bustine di carte nel tentativo poi di vincere un circuito competitivo che lo metto fra virgolette perché perché non può essere competitiva una roba in cui le regole e i rapporti di forza cambiano costantemente quello mi fa un po' schifo quello mi fa un po' schifo Drago Nero grazie mille per i 19 mesi di abbonamento Carlo dice c'è chi si lamenta di Genshin Impact e poi è lì a fare foot ecco Carlo a me fa un po' più schifo foot che Genshin Impact perché Genshin Impact sì c'è l'elemento gacha l'elemento diciamo pay to win ma poi che cosa winni cioè nel senso diventi più forte è una scelta che fai solo tu come giocatore ti vuoi vuoi quei personaggini vuoi maxare quei personaggini è bella lì di là ragazzi c'è un circuito che dovrebbe essere competitivo e per essere competitivo devi spendere i soldi insomma ecco non è proprio elegante diciamo la situazione ecco grazie a Tom Barts che con 11 mesi di abbonamento si avvicina all'evriversario di lol cosa ne pensi a questo punto Pippo alzo un po' le mani nel senso che non ne conosco specificatamente le meccaniche di gioco non seguo il circuito non seguo troppo il circuito esportivo quindi non mi pronuncio approfonditamente su su lol su league of legend e su MOBA in generale onda dice non capisco come faccio a funzionare ancora foot non si sentono dei polli da spennare i player non lo so ragazzi sì ci sono anche dei content creator qualcuno lo citava che vengono pagati da Electronic Arts per spacchettare e quindi c'è da parte di tanti giocatori un'aspirazionalità e c'è anche da dire che insomma poi credo che ci siano anche che ci sia anche una parte consistente di utenti che comunque a cui piace il calcio ok magari magari non hanno mire competitive di finire in alto nella stagione comprano un numero di pacchetti moderato dicono anche tanto ragazzi cioè nel senso è un gioco che mi accompagna magari per tutto l'anno ci sta che ci faccia qualche investimento ma io stesso mi è capitato di fare degli investimenti su roba estetica di Destiny proprio per supportare un prodotto con cui giocavo ore 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 e quindi c'è anche magari chi lo usa in una maniera un po' più morigerata e diciamo che comunque sia il piacere di trovare in quelle dieci bustine che ha deciso di prendere un campione o comunque insomma di assemblarti in una squadra con quelle dieci bustine io lo posso anche capire cioè anche lì se foot è arrivato dov'è è perché di base ok cioè io me lo ricordo foot ai tempi cioè quando uscì foot era una roba in cui ci lasciò tutte bocca aperta perché cioè mamma mia geniale cioè in effetti c'hai un un meccanismo che ti invoglia c'era anche poi il metodo di prendere delle bustine senza spendere troppo ecco però ecco Antonio dice basta giocare responsabilmente a me foot diverte tantissimo e non ci ho speso mai una lira ecco anche lì non è che voglio dire che foot non abbia alla base un'idea interessante per il pubblico e anche interessante per gli appassionati di giochi di calcio il problema è trasformarlo cioè è fare il salto e trasformarlo in una cosa che un po' spennagalline sembra ecco cosa ne pensi dell'arrivo del season pass su sea of thieves io l'ho fatto come ovulo studio di sviluppo sarà ovulo allo studio di sviluppo non lo so ma non ho più aperto il gioco per mancanza di un team no secondo me ci sta assolutamente il season pass nel meccanismo di sea of thieves l'importante è rimanere fedeli a quello che è il diktat di sea of thieves che è anche il suo più grande punto di forza che è questa sua orizzontalità per cui comunque gli oggetti che tu guadagni non rientrano in una progressione ruolistica tale per cui certi utenti si sentono indietro sea of thieves è bello perché se lo abbandoni per un anno e poi ci rientri sei comunque cioè ti ritrovi tu subito a tuo agio e sei comunque un asset per la squadra e non un peso perché devi fare il livello di potere devi riportare il livello di potere quindi basta non tradire quella cosa lì e poi aderire a una logica di monetizzazione legata a un battle pass a un season pass secondo me ci sta assolutamente Afra al proposito ti racconto sta roba da giocatore purtroppo abbastanza infoniato con un warzone ma perché purtroppo poi alla fine insomma se uno ha una passione trascinante ci sta anche in seguirla ecco avevo preso il pass su ps4 di mese in mese a novembre sono passato a serie x anche se ho recuperato il mio account con grande fatica non mi hanno mai ridato i miei code points accumulati nel tempo nonostante i vari ticket ho deciso di non darle più un euro nonostante ci giochi ancora molto non mi dispiace molto Andre ah dice purtroppo per le ore che mi porta via ecco su quello sapete benissimo come la penso e la penso così da giocatore che ha speso su destine non dico buttate via perché finché finché c'è partecipazione sono ore spese non buttate ecco però poi io sono arrivato a un punto della mia vita in cui preferisco la varietà che la focalità no la focalizzazione la focalità è un'altra cosa la focalità è importante è un bel valore allora no Simone di God of War Ragnarok ancora niente perché di Destiny ormai sento parlare solo male no ma Pierbanana io non è che ne parlo male assolutamente anzi anzi è semplicemente che non è più non riesco più a dedicarmi a dedicarmici come ci dedicavo come mi ci dedicavo prima e ho preferito diciamo impiegare quelle ore per magari cercare qualcosa di diverso allargare un po' i miei orizzonti io lo faccio anche per lavoro e credo che sia importante prima magari riuscivo a far coesistere un po' le due cose adesso non ce la faccio più e quindi se devo rinunciare a qualcosa preferisco rinunciare ovviamente a molte ore sullo stesso gioco invece che a diversi giochi più spalmati ecco qualche opinione su Biomutant Salt and Pepper le mie opinioni su Biomutant non sono molto lusinghiere non ho aspettative incredibili per Biomutant secondo me è un gioco che è riuscito ad accaparrarsi a richiamare l'attenzione del pubblico e a diciamo insomma far drizzare le orecchie di platee molto estese grazie ad alcune caratteristiche che effettivamente erano anche molto molto efficaci un design un character design un'idea del mondo questo anche la varietà di situazioni che si respirava nel primo trailer però più lo vedo e più mi sembra un prodotto ludicamente modesto sarò felice di sbagliarmi nel caso secondo me parte del pubblico e li sta riversando addosso delle aspettative molto molto elevate e guardate che non dico che un prodotto modesto non abbia dignità o non abbia ragione ad esistere va benissimo anche giocarsi diciamo un titolo che si colloca all'interno insomma del suo genere di appartenenza e fa quello che deve fare per risultare efficace brillante a tratti un po' meno efficace invece magari in altre cose e si contenta di stare lì ecco mi sembra che invece il pubblico purtroppo abbia l'aspirazione di trovare un grande blockbuster Bio Mutant non credo che sia quello ci sono delle cose che non mi convincono particolarmente proprio sul fronte del gameplay e questo un po' mi spaventa d'altro canto invece ci sono delle cose molto molto carine insomma sul fronte della caratterizzazione che secondo me potrebbero garantirgli una vita onesta beh Dark Arrow dice a me di Bio Mutant fai pensire il design dei boss e dei personaggi visti sono d'accordo con te lo citavo poco fa il design secondo me è la cosa che brilla di più di Far Cry 6 non si sa più nulla The Notorious McGregor 4 voglio leggerti così non si sa più niente è sparito completamente dalle scene io credo che ormai diventerà rischi di diventare il titolo dell'autunno di Ubisoft penso che sia quello anche perché quando lo lanci cioè che siamo a aprile se anche domani Ubisoft ci riannuncia Far Cry vuoi non fargli cinque mesi quattro mesi proprio così di comunicazione secondo me a giugno ce lo fanno rivedere e a novembre esce andrà a prendersi lo slot di Assassin Creed che per un Far Cry è anche atipico non mi vorrei sbagliare ma Far Cry non raramente è stato il gioco dell'autunno di Ubisoft Canvas dice Disco Elysium The Final Cut comprare a tal proposito leggo il messaggio di Alberto fra Disco Elysium è uscito su Playstation con diversi bug compresi dei glitch che possono bloccare la continuazione del gioco oltre il terzo giorno una patch dovrebbe uscire a breve ma è possibile che anche stavolta non lo sapessero prima del lancio evidentemente sono un team un po' piccolino e quindi fare quality check così esteso e beta testing così esteso per un prodotto che ha decine se non centinaia di sfumature di possibilità non ha una progressione fra l'altro inquadrata può essere difficile per rispondere a canvas comunque se lo stai prendendo se lo stai vuoi prendere su console aspetta che risolvano questi problemi ma il diktat è comprare disco Elysium sempre e comunque stai andando a prendere un prodotto che è più da leggere che da giocare ok e che va benissimo così è un insomma un erede spirituale di Planescape Torment e via dicendo dal punto di vista strutturale ok più lettura e elucubrazioni e studio che gameplay fatto min maxing statistiche cose del genere ok ed è meraviglioso ovviamente ti deve piacere quell'impostazione e devi sapere bene l'inglese e catombe oh si abbonano per due mesi grazie mille di cuore per chiunque confermi l'abbonamento in questi giorni stanno scadendo fra l'altro gli abbonamenti della maratona che erano tantissime ci hanno portato vicini vicini vicinissimi ai 2000 sub mensili grazie anche mattia e tutti i donatori di 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 abbonamenti dei mesi scorsi maritone metalwing grazie grazie di qua andrea grazie davvero ragazzi dart grazie e spero che qualcuno appunto che ha ricevuto l'abbonamento in regalo voglia decidere insomma di di estenderlo no no canvas the final cut non è stato tradotto in italiano la traduzione in italiano è un'altra questione e non è stata portata avanti no no the final cut è in inglese posta la campagna dell'outriders te la sei fatta tutta in singolo perde molto secondo te giocato da soli icarus nom ah stanred si hai ragione hai ragione hai ragione ci sarà una classifica di top donatori gifts stanred hai ragione sei il secondo sei il secondo marco è il primo con 123 star del secondo tecperry fizzio chronos rock marington christian che succede oh christian mattia metalwing grazie a tutti no ma scusami mattia però non li conta mattia che cazzo dico me ne da 58 com'è possibile mattia che me ne dia 58 che ne hai fatti 100 solo durante la la diretta di the game awards 50 almeno 50 durante la maratona figurati vabbè insomma grazie a tutti ragazzi caneta sia buona per 7 mesi dittaino ci lancia 6 7 bit e la risposta è ovviamente la borra sì mattia è una 170 almeno ma secondo me anche 200 secondo me anche 200 e piglio di un dio minore c'è bisogna citare i bit god supremo che ogni tanto arriva marco ancora a 25.000 dal terzo posto grazie a tutti ragazzi grazie se forte schiuma grazie ora ci stiamo avvicinando verso la fine di che cosa stavo parlando Outriders non me la sono fatta tutta in singolo ma me ne sono fatta purtroppo la maggior parte in singolo perché a un certo punto poi hanno interrotto il crossplay e io avevo qualcuno che giocava su playstation ma e e poi ci sono stati diversi problemi di server e mi scocciava cioè stare lì cercare le partite entrare in partita poi venivi buttato fuori ripartivi dal capo aspettavi 20 minuti quindi me la sono fatta parecchio in singolo mentre le spedizioni le sto facendo tutte in coop perché in singolo ci perdi la testa non perde tantissimo secondo me devi solo stare attento alla classe che selezioni con il piromante mi trovo bene quasi tutte le classi hanno comunque dei rami di abilità come dicevo un po' più basati sul sullo scontro da portare avanti in singolo ma le classi un po' più di supporto te le sconsiglio ecco chiaramente per esempio il devastatore secondo me vai proprio si chiama devastatore in italiano vai proprio tranquillo forse è il tecnomante quello un po' più difficile da portare avanti giocalo la campagna te la fai è molto piacevole e c'è un ciclo di loot studiato a puntino grazie a Jethammer che si abbono per 23 mesi ad un passo dal B-Everyversario e grazie anche a Dittaino che ci lancia 53 bit avrebbero dovuto essere 55 ma 2 non te li ha presi va bene siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine Marco dice io sono fermo da parecchio e sto risparmiando il più possibile per comprare casa comprensibile Marco grazie per essere qui e a supportarci grazie per i 39 bit possa giocami come faresti con il Game Pass mamma mia mamma mia ti gioco tutto libero fra prima di giugno ti aspetti qualche conferenza State of Play entro giugno giugno compreso sì prima di giugno manca maggio aprile maggio no non tantissime no non credo grazie a Sebastian Spirit che si abbona a livello 1 per la prima volta grazie a Sebastian ti rivedremo ancora in casa tua ma Gabriel non lo so vediamo però ormai c'è l'ufficio scusatemi facciamole dall'ufficio stay live guarda lì che figata ci abbiamo anche così la regia amici e con questa inquadratura ravvicinata io oggi vi saluto no c'è Eva che dice ciao caro Fossa mi trovo con le trilogie di Spyro e Crash in sconto al 50% su Switch consigli di averli assolutamente entrambi uno rispetto all'altro grazie in anticipo forse vado un po' controcorrente ma secondo me se ti devi riprendere una trilogia potresti dare priorità a quella di Spyro Crash è molto bello ma Spyro c'ha quella sfumatura da platform a mappe aperte un po' con l'esplorazione che mi gusta leggermente di più ovviamente invece poi Crash con il quarto capitolo ha fatto delle cose brillanti 11.56 vi devo salutare noi ci rivediamo alle ore 3 con il Q&A Tech e poi stasera dalle 19 con la Horror Night nel mezzo c'è il community event di Monster Hunter Rise quindi se volete fare una caccia con Alessandro alle 5 per un paio d'ore potete unirvi alla sua stanza lo so che sono 55 minuti ma adesso io devo andare assolutamente a fare un paio di telefonate una a Francesco nella speranza di poter avere questo venerdì un ospite direttamente da Milestone che ci parli di Hot Wheels e in generale insomma del processo produttivo devo anche cazzo no aspetta aspetta no non ce la faccio vi volevo far scegliere la Collectors da spacchettare oggi perché oggi volevo fare su Instagram un contenuto in cui faccio l'unboxing di un'altra delle non delle Collectors dei press kit insomma che mi sono portato qua e che ho promesso di farvi vedere trovate già quello di God of War del 2018 ce ne sono altri interessanti lo sceglierò io la prossima volta ve lo faccio scegliere andate su Instagram che oggi arriva quel contenuto lì vi adoro baci ciao